Non ce l'ha fatta l'operaio di 71 anni caduto ieri dal tetto di un'azienda metalmeccanica di Senago alle porte di Milano. Giuseppe Daniele, originario di Giussano in Brianza, stava eseguendo lavori di manutenzione con un collega quando ha appoggiato un piede su una lastra non portante che ha ceduto facendolo precipitare per 12 metri di altezza in una buca profonda altri due. Ha riportato traumi gravissime alla testa e alle gambe ed è morto oggi all'ospedale Niguarda. Papà era andato in pensione da poco, racconta il figlio Davide, ma non sapeva stare senza lavorare. Regolarmente assunto da una ditta appaltatrice sembra che fosse anche regolarmente imbragato. Dei accertamenti si sta occupando la polizia locale di Senago, coordinata dalla procura di Milano che indaga per omicidio colposo. Nella stessa azienda a giugno scorso si verificò un altro grave incidente. Un operaio rimase schiacciato da un pezzo di un telaio di un macchinario riportando fratture alle gambe e al bacino. Per Mauro Fioraso, FIOM Milano, non si può parlare di fatalità in tema di sicurezza. L'attenzione dice non è mai abbastanza e il nuovo codice sugli appalti è un passo indietro. Martedì, a rientro dalla pausa pasquale, è stata convocata un'assemblea con i lavoratori.